Siamo nel post partita tra Red Ultras e Operazione Nostalgia, partita vinta proprio al rush finale dai Red Ultras, siamo qui con le MVP del match di Angelis Giuseppe, avete fatto un'ottima partita, siete state sempre in vantaggio, all'ultimo secondo loro hanno pareggiato, poi il tuo fratello ha fatto un bel gruppo, abbiamo giocato bene, però dobbiamo ancora migliorare terza partita, manca sempre qualcuno, soprattutto il portiere cambia sempre perché mancava un ragazzo e ha trovato il presidente, è riuscito a trovare un ragazzo all'ultimo De Angelis, lo dedica a qualcuno? A mia sorella piccola che deve vedere qui Ciao ragazzi!